Musica Buongiorno a tutti, quest'oggi vi parlerò di un'applicazione che potrebbe rivoluzionare la scuola del domani, ovvero Socrative. Scriviamo sulla barra di Google Socrative e entriamo nella pagina, nel sito web diciamo. Questa è la schermata iniziale appunto di Socrative. Questa applicazione permette agli insegnanti di creare delle verifiche sul web alle quali poi gli studenti dovranno cercare di rispondere correttamente. Ci sono appunto due varietà di questa applicazione. La prima è stata creata per i professori che appunto permette di creare delle verifiche e la seconda invece è stata creata per gli alunni che infatti i ragazzi dovranno semplicemente connettersi al sito di Socrative inserire il codice della classe virtuale scelta dal professore e iniziare a rispondere alle domande. E io ho fatto un profilo di un professore così vi posso far vedere la parte inerente alla creazione di un quiz. Adesso aspettiamo un attimo che si apra. Ecco, questa è la schermata del professore, che vede il professore. Possiamo fare quiz, space raise, ma per questo serve la parte pro, diciamo, che bisogna pagare annualmente. Per esempio possiamo fare quiz, io qua ho fatto una specie di quiz, una domanda, e quando apriamo questa parte, diciamo, di Socrative, possiamo trovare più cose. Infatti le domande possono essere fatte in scelta multiple, vero-falso, vero-falso, o risposta corta. Infatti se vediamo multiple choice, sulla prima varra possiamo scrivere o mettere un'immagine, e in seguito poi possiamo mettere le risposte, che appunto solo una sarà giusta. Oppure possiamo appunto fare vero-falso, come questa qua sopra, fatta da me. Oppure abbiamo una risposta corta, dove appunto abbiamo qui, sempre sulla prima barra, un'immagine o una frase, e sotto appunto abbiamo la spiegazione. Una volta creato appunto la nostra verifica, basta lanciarlo, e basta schiacciare su quiz. Una volta schiacciato su quiz, appunto, selezioniamo il quiz che abbiamo creato, facciamo next, dopodiché vengono fuori dei diversi metodi che dobbiamo selezionare. Instant feedback, open navigation e picture paste. Di solito si preme instant feed, e si vengono a selezionare due parti, require names e show question feedback. Iniziamo. Appunto non essendoci nessuna classe, tra virgolette, qua verrebbe fuori il progresso, sia in percentuale, ma possiamo cambiarlo, possiamo avere lo score, in percentuale o con l'asterisco. Qui poi possiamo vedere o la classe totale a cosa ha risposto alla prima domanda, appunto al quiz, oppure possiamo vedere direttamente tutti i nomi. E poi possiamo appunto premere finish, e vediamo o la chat, la chart, scusate, che è questa qui, che è più o meno sempre la stessa, oppure i get reports. Appunto il get reports ti fa vedere, ti dovrebbe far vedere appunto sulla tua email, il progresso che è stato fatto, che è stato fatto da ogni singola persona, diciamo. Grazie a tutti per l'attenzione e per essere giunti fino a qui. Spero che questo video tutorial vi sia stato l'aiuto. Arrivederci. Grazie a tutti per l'attenzione e per l'attenzione e per l'attenzione.